Credevo avremmo potuto costruirci un nido in alto, sugli alberi. Uccidiamo degli innocenti, prediamo i deboli. Il tuo sacrificio non servirebbe a nessuno. Firmali e sarai un uomo libero. Io sono libero. Basato su una storia vera, il film in prima visione TV, La vita nascosta. Martedì, primo novembre, alle 20.55.